oh mio dio ma quella è mamma agnese ragazzi vedete dove siamo qua siamo dentro la casa e si dice che in questa dannata casa sia stata avvistata per la prima volta nella vita reale questa è una cosa in realtà su un gioco però questa casa esiste veramente nella vita reale e si dice che è stata avvistata mamma agnese mamma agnese porca vacca ragazzi allora questa casa non so bisognerà esplorarla bene ragazzi questa zona è veramente stranissima prima di tutto vediamo fuori uscendo fuori vediamo che qua praticamente la mappa è stata delimitata proprio per far apparire meglio mamma agnese mio dio che paura qua ci sono pure delle barche e quindi si pensa proprio che da questa parte ci sia questa mamma agnese qua si possono spaccare le cose e tutto quanto aiuto sto per cadere in acqua evitiamo di cadere in acqua perché dobbiamo trovare mamma agnese nella vita reale ragazzi cioè nella perché nella vita reale poi dopo mi arriva ovviamente nella vita reale e chissà dove magari in giardino spero di no perché ogni volta che gioco a sti giochi ragazzi a me arrivano strana entità dentro casa che paura ok però non importa perché io lo faccio volentieri perché a me piacciono indagare questi misteri poi tanto le posso mandare via questa entità lo faccio con delle magie ovviamente quindi adesso andiamo al piano di sopra e cerchiamo di investigare questa casa sembrerebbe esserci qua probabilmente mamma agnese cosa ci faceva? si sedeva e guardava tutte le persone che voleva uccidere qua c'aveva tutto un muro di persone che voleva uccidere vi immaginate? poi qua c'aveva il suo complice che è papagnese oddio vi immaginate se esiste un papagnese? no pem 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 le sedie mi stanno antipatiche ho visto una sedia pem 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 beh devo dire che almeno si distrugge tutto quanto vorrei distruggere anche questa cosa ma non posso devo smettere ragazzi vi immaginate se poi chiamando cioè così si chiamano la mamma agnese no eh per favore no non voglio chiamare mamma agnese in questo modo che paura attenzione ora che siamo sotto che cosa è stato ragazzi? cosa diavolo è stato? ma avete sentito tutti? no cos'era? cos'era? cosa diavolo era? no 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 mi devo nascondere mi devo nascondere mi devo nascondere ho paura ho paura ho paura ho paura è stata chiusa la porta? un'idea 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 grandissima metto prendo questa oh bene 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 prendo la fisica questa qua e poi dopo metto così e però poi tipo faccio così e adesso così non si muove non si può vedete non si può più muovere siamo bloccati in casa cioè non so se è una cosa buona oppure una cosa cattiva ragazzi però effettivamente ora anche se si cerca di aprire la porta magari boh facendo così vedete così si riesce ad aprire richiudi 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 però non si può entrare perché c'è la barriera bene 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 ci siamo aspettate un attimo e se mamma magnese appare da dentro casa lì siamo veramente cioè siamo messi molto male insomma come non voglio allora se mamma magnese appare dentro casa bisogna immediatamente togliere questa cosa ragazzi immediatamente proprio perché vacca qua cos'è che c'era? niente un'altra cosa ah giusto mi stavo scordando un'altra cosa che si può fare è vedete così si può andare fra le cose fra gli oggetti mi stavo quasi scordando quindi se arriviamo a magnese ce ne scappiamo così in realtà ma ho sentito qualcosa oppure era il mio respiro? mmm mmm prima avevamo sentito qualcos'altro ragazzi ne sono sicuro adesso cerchiamo dollarazione di scoprire dove si trova mamma magnese perché sicuramente prima i rumori di prima ci ha indicato che c'è da qualche parte quindi sicuramente si starà nascondendo qua ragazzi no 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 per favore oddio oddio mi sta guardando oddio mi sta guardando ma quella quella non può essere mamma magnese E forse solo la sua faccia La sua faccia è molto oscurata Cioè senza luce Senza luce mammagnese se ci pensate Verrebbe direttamente così perché lei sorride In questo modo inquetantissimo Prendiamo direttamente un'altra di queste cose No 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 brutto brutto No ragazzi sto distruggendo ogni cosa Quindi facciamo così Rimuovi rimuovi ok perfetto Adesso rimettiamo Questa cosa qui Ottimo perché io volevo chiudere Tutta questa parte questa porta qua Ok adesso non può più entrare Mammagnese anche se vuole Ma che diavolo ci fa lì Vedete non si può interagire con questa mammagnese Stavo cercando di interagirci Però non si può sembra proprio non essere Un personaggio del gioco Forse è tipo mezza maledetta Ma ragazzi cosa diavolo sta succedendo No 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 Ma mi sta distruggendo casa Ragazzi mammagnese mi sta distruggendo casa Avete visto Ma dov'è finita No io vi giuro sono terrorizzato Come ha fatto Ha distrutto tutta casa Oh mio dio No 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 Per favore Allora che faccio Che cacchio faccio Devo mettere questa cosa qua davanti Nei ma no è inutile È inutile metterla Perché tanto qua si può uscire Dov'è finita mammagnese Mammagnese ma Ha distrutto tutta casa sua peraltro Perché questa è dannatamente casa sua Perché l'ha fatto Dov'è finita Era tipo andata da questa parte O mi sbaglio Dov'è finita Ah No 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 è caduta in acqua Guardate No 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 Via 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 No 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 Ho paura che esca dall'acqua Ho paura che esca dall'acqua Se esce dall'acqua questa qua mi distrugge tutta casa No 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 Per favore per favore no Scappa 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 Ah Mi ha ucciso Ma è stata lei per caso Non so se è stata lei oppure se è stata La casa che si era Si era mezza rotta Perché ovviamente stando in una casa Rotta così E poi dopo è rischioso Entrarci dentro Arca vacca No 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 Attenzione Ha distrutto ogni cosa Mamma Agnese No è pure io Certo non è che sto migliorando la situazione Però dannazione Via 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 Bisogna stare attenti che qua Mamma Agnese Siccome ha distrutto tutto Poi ogni cosa che si muove E diventa una distruzione ancora di più E quindi qua Usciamo Aiuto Ok Allora Cerchiamo di capire bene che cacchio fare in questa situazione Perché Mamma Agnese ha distrutto ogni cosa ragazzi Ogni cosa Non è possibile Ma cosa Perché ha fatto così Peraltro se io cerco di andare in questa barca Anche questa barca si distrugge Che mi interessa così A caso Cioè Anche perché poi Se arrivasse qua Mamma Agnese E Eccola qua vedete No 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 Mamma Agnese Mamma Agnese sta Andando sotto qui Stavo cadendo Per fortuna Ho volato Ho volato Guardate 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 Mi ha ucciso Dannazione Ma ragazzi Ma che mappa è questa Io adesso entrerei nelle telecamere del mio giardino Accidenti Accidenti Adesso vediamo un attimo Che diavolo c'è qui Non è possibile ragazzi Non è possibile che ogni volta mi arrivino in giardino ogni persona stranissima Che non è solo il mio giardino Peraltro eppure il giardino Delle persone che abitano insieme al condominio Vediamo un attimo Qui ci dovrebbe essere Mamma Agnese Anche perché Questa mappa Ho sentito dire da altre persone Soprattutto Che richiama Mamma Agnese ragazzi In un qualche modo Perché non vuole Questa è la sua mappa Non vuole che si giochi a questa mappa Mai Infatti non dovete mai giocarci Se avete questo gioco Non giocate A questa mappa È pericoloso Infatti non vi dirò nemmeno Come si chiama questa mappa Che è meglio Ok Mi raccomando eh Vediamo un attimo Perché qua sto sentendo rumori Porca bocca Cos'è stata questa cosa No 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 Per favore Per favore Ragazzi Ho paura Mi voglio togliere le cuffie Perché sto sentendo Un sacco di cose strane Da Da Il microfonino strano Della videocamera Secondo voi Arriverà Mamma Agnese Oppure no Secondo me Sì Purtroppo Perché appunto So che È stata richiamata Poi questi rumori Non è che sono normali Non è che ogni giorno Io li sento Purtroppo Ok Ragazzi Oh mio Dio Ma quella è Mamma Agnese È stata richiamata Oddio No Dannazione Non bisogna Mai chiamare Mamma Agnese Mai E soprattutto Non bisogna mai Giocare a quella mappa Che ho giocato io Anche perché Si arrabbia Se no Adesso cosa faccio Per farla andare via Cosa devo fare Beh se non va via Ovviamente la registro Con il drone Iscrivetevi al canale Lasciate un sacco di like E al prossimo video misterioso Cioè domani